dove sarà mai? ho guardato ovunque! e sotto il divano? eccola! che cosa è stato? pensavo che non ti avrei più rivisto è passato un'eternità ecco i miei tesori questa ragazza è il gioiello della corona medaglia di vincitore del campionato di nascondino sono campione! nascondino? cosa c'è di così sorprendente? non mi credete? posso dimostrarlo! non mi credete? i vincito in a foresta and look like a deer and I almost got caught by the bear i've hidden in a desert and look like a june nobody for me even Prince Ali I'm best in this game and I wanna say find me if you can try to find me here try to find me there nascondetevi subito! evviva il nascondino! dove mi nascondo? dietro le tende? l'altro lato non c'è posto qui dietro! ok! l'armadio è perfetto! non ce l'ho fatta! ma posso rimediare? riappolgerò il tempo! fantastico! l'armadio è mio ora! ma come? e se mi nascondessi nel frigorifero? pessima idea fratello! il frigorifero è mio! cosa devo fare? ho avuto un'idea! disegnerò il luogo perfetto per il nascondino! papà non mi troverà mai qui! cosa? ci vado anch'io? teo vengo con te! aspettatemi! arrivo! una porta? pensavi che tuo padre non se ne sarebbe accorto? ti ho trovato! strano! nessuno! continuerò a cercare! che cos'è questo posto? è un po' strano! cosa potrebbe essere? non adatto ai bambini! salve! sono kane! chi siete voi? siete qui per l'offerta di lavoro! ecco l'elenco delle offerte di lavoro! benvenuti nel mio fantastico digital circus! oh! non stiamo cercando un lavoro! è un malinteso! andate da qualche parte? davvero strano! sapevo che sareste tornati ragazzi! non esiste che io lavori qui! lo vedremo! cosa? mi sono trasformata in pony! esatto! ora mettiti al lavoro! Mila! Mila! lo spettacolo è iniziato! beh! ora state per vedere il trucco della sega! aiuto! sbrigatevi! lascia andare nostra sorella! sì! se vuoi salvare i tuoi denti! neanche nei tuoi sogni più sfrenati! siete bloccati per sempre! il circo non chiuderà mai! cos'è il tuo potere? dopo tutto siamo gli incredibili! gli incredibili? fantastico! il vostro potere sarà mio! che cosa è stato? disegna più velocemente! pronti! prendi questo! aspetta! il mio superpotere non funziona! cosa c'è qui? un incudine? così creativi! attenzione! i nostri poteri sono spariti! i nostri poteri sono spariti! oh! non sono spariti! ora li ho io! osservate attentamente! posso controllare il tempo! è così divertente! smettila! corri! dove state andando? è solo l'inizio! nascondiamoci! volete giocare a nascondino? io sì! ah ah! preso! oh! un pollo! la ricerca continua! non c'è nessuno! anche qui nessuno! sapete dove sono i miei figli? scrivetelo qui sotto! ma certo! proprio lì! niente! continuerò a cercare! 99! 100! pronti o no? sto arrivando! oh! percepisco la paura! con quale scatola devo iniziare? non fare la scia! credo che inizierò con questa! c'è qualcuno in casa? cavolo! vorrei poter dare una sbirciatina! ehi! hai vinto! ma togli quell'occhio inquietante! non preoccuparti! il mio occhio è innocuo! a meno che non lo trasformi in una bomba! in arrivo! perché ti stai rilassando? alza le chiappe e lavora! no! ehi ragata! entra! è il momento della prossima scatola! june! preso! ragazzi! che strano! li hai trovati? no! nemmeno io! dovremmo dividerci! tu vai di là! io guardo di là! cos'è questo rumore? cavolo! il mio stomaco brontola! sono affamato! qualcuno ha fame! ho un'idea! un messaggio! una pizza? oh sì! dov'è il ragazzo delle consegne? vado a controllare! c'è qualcuno qui! pizza a domicilio! è ancora calda! grazie! e i soldi? mi dispiace tanto! ecco! grazie! finalmente! che buon profumo! vuoi una fetta? sono a posto! anche tu sei a posto! teo! mettiti al lavoro, jacks! accidenti! che bel vestito! beh, io vado! non me l'aspettavo! il trucco è andato bene, cari spettatori! una sorpresa lo attende! cosa? ce ne sono due? come? vieni! sarà divertente! ricreerò ogni numero che sfida la morte! questa volta funzionerà! oh no! si sono moltiplicate! signore e signori! il nostro show è ridotto a un solo concorrente! oh no! sono l'ultima! ma non per questo meno importante! bene bene bene! è il momento di tirare fuori i cannoni! a presto! 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 ti presento! ti presento il mio nuovo amico! a presto! cavolo! kofmo! svegliati! sono io! addio, kane! il bastone è mio! sorella! ti riporto indietro! la vecchia me è tornata lavoreremo nel circo per sempre beh, almeno la tuta non fa schifo restyling wow siamo di nuovo gli incredibili accidenti, ferme il circo non è ancora finito cosa? ops, sono miei è ora di andare a casa ecco la porta andiamo aspettate dovremmo controllare di nuovo dietro la porta sì, ragazzi, vi ho trovati ho vinto siamo a casa papà ha vinto, oh sì ora tocca a voi io mi nascondo ok uno, due, tre quattro, cinque, sei qui sono al sicuro 33, 34 guardiamo un film ottima idea ehi, e io? aspettate la nostra serie preferita è in onda chi è pronto a combattere? guardate che roba oh, che perdente posso davvero clonarmi? clone, in guardia wow un bel combattimento oh, qua di fame è vero abbiamo bisogno di cibo oh, pizza grazie, papà ehi, la mia pizza oh, i bambini di oggi pizza, posso averne una fetta? ma neanche nei tuoi sogni più sfrenati ehi, dai 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 non mi avete lasciato altra scelta patatine e pizza è buona ne volete? no? beh, come volete grazie, June sono piena polli? non sono stata io come no finalmente è ora di andare in soffitta oh, mi mancano così tanto i miei anni giovanili cavolo, ero forte cos'è questa vecchia scatola di chanfruzelli? accidenti, è pesante l'ho presa in mano ehi, ragazzi diamo un'occhiata che cos'è? una specie di mappa è una mappa del tesoro una mappa del tesoro? una mappa del tesoro? a me sembra spazzatura una mappa del tesoro? è mia bella a me oh, una mappa del tesoro? è mia io ne ho solo un pezzo anche io sì diventerò il re dei pirati? avete già visto il mio pezzo? beh, guardiamo meglio dov'è il sud? oh no cosa ha fatto? la mappa è mia ora ehi, brutto pirata rivolgiamo subito nostra sorella lasciala andare no vediamo dove sono i miei tesori mi prego, aiutatemi portatemi via da qui andiamo da quella parte subito oh ma dove sono tutti? ragazzi? questa è solo una parte della mappa ma dov'è il resto? oh che c'è? è questo che stai cercando? vuoi la mappa completa? sì, ovviamente ecco fermati oh, giusto sta arrivando ecco una sorpresa per te riprova, Tao non funziona niente fermerò il tempo cosa? non funziona farò tutto il necessario e i nostri superpoteri l'unico con i poteri in questo mondo sono io siete tutti indifesi affascinante, vero? è un uomo puzzle aiuto i miei figli ehi, pirata di carta liberali subito oh, papà non così in fretta li lascerò andare quando questo video avrà 50.000 like cosa dovremmo fare? ehi, ragazzi premete su mi piace presto così il pirata lascia andare i miei figli sta per completare la mappa cosa? dove sono andati? ah ah qualcuno vuole giocare a nascondino su una nave? inizia il gioco si, parte iniziamo con il forziere dei pirati oh, è volato qualcosa è vuoto dove possono essersi nascosti? allora, diamo il via a questa festa oh, è così traballante dall'altra parte a sinistra a destra sinistra allora, chi di voi soffre il mal di mare? non ce la faccio più ah ah stomaco debole teo, soffre sempre il mal di mare accidenti perché ci vuole una vita? oh, molto meglio scusatemi se baretti stai ingenuo è questo che stai cercando? così piccolo? davvero? ehi fammi uscire odio i pirati teo buona fortuna trucchi da pirata cosa devo fare? incrociamo le dita e troviamo qualcosa di utile in questa scatola potrebbe fare al caso nostro la mia vecchia chitarra come faccio a rompere le scatole rimanenti? oh, l'arma preferita dai pirati è una pionda gigante ecco il proiettile me ne serve uno più pesante ecco fatto troppo pesante da gestire ci siamo sono pronto mirare mirare risparmiami risparmiami ti prego oh, dinamite ecco l'attacco cosa? nessuno? è stato uno spreco va bene creerò un'altra arma una mitragliatrice che scelgo? oh, sì i pirati amano il room oh, no June presa, piccola voglio la tua mappa ehi, June grazie mille tutti June e manca uno i miei ragazzi dovrei prepararmi cos'altro ho qui? quack, quack no un cane fedele farei la guardia alla casa un ombrello sarà utile a cosa serve questo? oh, capisco qual è la prossima mossa? eh, cosa devo fare con questa nave? ovviamente salgo a bordo nuota ciao, ciao mi mancherai cosa? non esiste non c'è nessuno devo fare qualcosa cosa può aiutarmi? wow oh, un frutto del diavolo che spuntino il mio potere come faccio a gestire l'ultima scatola cos'è questo? mi ha colpito alla schiena vola via da qui ah, come sembra è un boomerang mi è venuta un'idea oh, brutto pirata ci vendicheremo eh, ora ho la mappa grazie a tutti cosa? dov'è il primo pezzo? dov'è la bambina cattiva? oh, anche questo sarà utile un pop-it ah, non ora oh, la mia bandana porta fortuna un cappè la mia taglia una katana della vendetta teniamola dove sei piccola sanguisuga? vai un giro a rubare mappe? è questa che stai cercando? la mia mappa? prendila se ci riesci santacciuga dov'è andata? ragazzi prendete questo i vostri poteri torneranno ehi, signor Buggy sono qui ma come sei finita lì? ho una sorpresa per te guarda eccoci forza, Teo disegna dammi un minuto ma dov'è la matita? hai perso questa? vai, Teo cerca nei tuoi archivi una piuma? vuoi fargli il sollettico fino alla morte? un orsacchiotto una palla da tennis lancia qualcosa è tutto quello che avete lo supereremo in numero andiamo ragazzi e allora? tocca a te Polly ancora una volta e capo oh cavolo no bel colpo ehi ragazzi Rufy siamo così felici di vederti allora tutti pronti? abbiamo qualcosa santo cielo questa è una mappa del tesoro ragazzi sono in debito con voi diventerò il re di tutti i tesori e di tutti i mari e questo è per te dobbiamo andare ciao ciao ragazzi potrebbe tornarmi utile ecco sono pronto a combattere per la mia famiglia e guardia pirata e come? come avete fatto? stavo venendo a salvarvi conciato così wow stai benissimo papà bravo aspetta aspettate un attimo ho i biglietti per il parco acquatico mi va di andarci parco acquatico aspettate ecco l'ingresso e i nostri biglietti mi dispiace il parco acquatico sta chiudendo per la notte siete arrivati troppo tardi Polly fai qualcosa? ok torniamo indietro nel tempo fatto ecco i nostri biglietti wow non chiudiamo prima di due ore perché c'è il cartello? benvenuti svegato ah perdente ciao evviva siamo tutti qui da dove cominciamo? questo no la piscina fantastico io faccio un tuffo ciao papà io voglio andare là fermati Mila dov'è la piccola? ah lei voglio dire è qui eccellente tenetela d'occhio mentre sono in piscina dobbiamo trovarla il prima possibile dividiamoci aspettate io il bagno è da quella parte dove sarà mai? oh lo so disegnerò un poster smarrita speriamo che funzioni Mila sei qui? non c'è la guardia di sicurezza potrebbe aiutarmi oh e scusa grazie Mila fermati sono qui devo scendere credo Mila ma dov'è? oh no è lo scivolo più pericoloso ehi Tao io vado Mila fermati hai visto questa bambina? assolutamente entra pure no sto solo cercando lei divertiti ciao Prendi questo cosa? tu Tao sono io bello scivolo lo consiglio vivamente Mila ehi attenta dove ti teletrasporti messi all'aggiù non è possibile e se n'è andata Mila qualcuno l'ha vista ah non importa ops bloccata sto cercando questa ragazza l'hai vista? sta indietro non la trovo ops ciao 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 papà cosa stai facendo? non vedi? sto pescando ma non spaventare tutti i pesci oh a bocca è un pesce grosso ciao ciao papà ehi piccola guarda questo pesce Mila dove sei? eccola è solo una foto eccola aspetta è scappata via capisco che bambina irrequieta presa oh solo sirene non puoi prendermi non mi prendi torna indietro ora mi hai fatto arrabbiare oh oh sono bloccata non mi prendi non mi prendi fermati qualcuno sta per essere preso a calci nel sedere piccolo piantacrane bagnate non girare ciao sono furiosa tempo fermati ora non può più scappare è teo che ridere june eh scusa papà wow impressionante è probabile che non la troverò mai ma cosa devo fare? Mila sei tu finalmente ti ho trovata vieni qui piccola peste cartone no devo rilassarmi e riavviare il tempo mi hai visto tuffarmi? oh una piscina ma perché? era proprio lì no di là rendetevi è divertente vero? perché siete tristi? a questo punto abbiamo guardato in tutto il parco acquatico continua a sparire e a ricomparire cosa? eccola ehi famiglia è stata qui tutto il tempo e ho ancora un sacco di cose da fare e spiaggia ce ne sono tre o cosa? casa dolce casa che giornata meravigliosa la casa è fantastica finalmente sono distrutta la peggior giornata di sempre Mila? un'altra? ancora? ma quante sono? ehi vi va di giocare? oh cavolo è scappata di nuovo ne ho abbastanza giusta osservazione ma che succede qui? ops ce n'è ancora qualcuna il cruessante è mio basta oh sì sei fregata? cosa? tu fermati ma non ha senso cosa stai facendo? il mio quadro il mio disegno preferito no sì basta così mancata? ma ci deve essere qualcos'altro che posso fare una rete? ma chi devo catturare? tu preso cosa? fammi uscire finalmente pace e tranquillità ma che succede? svegliati non è un buon momento per dormire suono la chitarra canto per te non ho voglia di dormire tu perché? mi fai impazzire non ce la faccio più presa cosa? silenzio la bambina sta dormendo potreste svegliarla ecco qua dormi bene chi vuole guardare un film con me? alla grande andiamo